Hola boys and girls e benvenuti in un altro video del vostro PokeShiny di Pasqua Loading 2019 come potete vedere già dallo sfondo non potevo non portare anche quest'anno i puffi perché i puffi sono un must c'è anche quello per bambina c'è il cartoncino rosa mi pare che cambia anche il puff forse c'è puffetta, non mi ricordo io ovviamente ho preso quello per maschietto della Balocco eccoli qui qui abbiamo quattro occhi e tontolone mi pare sia è una coccinella fantastica e arriva mi piacciono troppo le coccinelle allora, allora, allora la carta si presenta così ci sono ovviamente il colore sapete che blu azzurro e tutto quanto sono i miei colori preferiti ci sono disegnati dei funghi e qui sopra in alto ci sono disegnati invece i vari puffi ma allora della carta, no? poco ci importa, devo dire la verità quello che conta è il cioccolato e la sorpresa soprattutto e quelle dei puffi diciamo che non sono mai state troppo belle io li compro perché comunque ogni anno spero in qualcosa di meglio ma non lo so vediamo un po' niente, oggi ritico sempre con lo scotch cioè niente da fare ok ce l'abbiamo fatta ok finalmente un uovo decente non come quello lì sciolto che era inguardabile praticamente si era deformato all'indentro allora mettiamo questo a posto qui ok andiamo ad aprire non è grandissimo ora vi dico anche quanto costa ah beh quest'anno si sono superati le gomme ah ecco si era anche aperta bene oltretutto si era anche aperta cioè veramente come far andare la sorpresa a contatto con la cioccolata bene prima il cioccolato sciolto adesso la sorpresa che si attacca che va a contatto con il cioccolato gommine sagomate e questo è brontone credo va bene possiamo anche buttare perchè ha contatto con il cioccolato sinceramente e poi fa cagare era già aperta la sorpresa dai nooo vabbè quest'anno ci sono le gomme quindi il aspettate che vi dico quanto costa guardatemi un momento vado a recuperare lo scontrino se lo trovo sempre eccolo qua si allora costa costa 5,90 euro 5,90 euro per questa cagata meno male che almeno è dell'abbaloco quindi il cioccolato è buono e niente ragazzi questa fantastica apertura di merda finisce qui e io vi attendo per altre aperture bye bye ciao